E' questo che voglio fare, il potere economico, le multinazionali controllando più profitto attraverso il lavoro perché c'è una disoccupazione dilagante, c'è una crisi economica senza via d'uscita, sta cercando di togliersi le stesse sorgenti della vita, ecco perché dobbiamo scendere in piazza, non soltanto contro la data. Ora e sempre resistenza contro la data della sua violenza, ora e sempre resistenza.